Giulia che medal è stata? Una medal normale, penso che abbiamo perso una posizione, non abbiamo ricattato particolarmente bene però forse eravamo un po' troppo rilassate per il risultato che abbiamo ottenuto, però insomma né contente né incazzate, è andata benissimo così. La voglia di archiviare questo Palma e pensare a ieri in modo più... Sì sì assolutamente, adesso a ieri siamo molto più serene, è stata una settimana abbastanza impegnativa dal punto di vista psicologico perché comunque trovarsi in ventesima posizione a metà campionato non fa mai piacere, però sono contenta che comunque siamo riusciti a tirar fuori la grinta, a non mollare, a recuperare posizione su posizione e bene così dai, era importante, era riuscire a prendere dei punti qua, adesso sarà tutto molto più semplice. A proposito di numeri, non te l'ho ancora fatto durante la settimana, è il momento di chiederti che voto ti dai? No, 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 sono indecisa da un certo lato 5 e da un altro 8. La media fa 6 e mezza. Sì sì, esatto, no, 5 per come ho gestito la prima parte del campionato, scelte forse anche con un po' di sfortuna, però insomma non siamo riusciti a zeccare un bordo, proprio detta così, però lotto per comunque la capacità di non mollare, di crederci fino alla fine. E anche per la maglietta. Sì anche per la maglietta, certo. Grazie, ci vediamo ieri, complimenti.